Ciao amici, allora, qualcuno di voi ha detto che il suo programma per la registrazione musicale non hanno capito tanto bene come funziona, le tracce, tutte quelle cose lì. Allora adesso io faccio vedere a questi amici miei, adesso, come nasce un piccolo pezzettino, una piccola sigla, mettiamo uno si può anche creare una sua sigla personale, quando fa le sue presentazioni la lancia e ha la sua sigla tutta per lui, così non copia niente a nessuno. Adesso diciamo che facciamo un piccolo giro di basso, così vediamo come nasce una piccola sigla, ok? Adesso vediamo, cari amici, posizioniamo la videocamera qua, così, e vediamo diciamo che facciamo questo piccolo giro di basso, perfetto, questo sarebbe il pezzo da fare, però il basso lo faccio io. Adesso il solista, però il solista io dovrei solo mettere il solista. Va bene! Ok! Bene! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!